musica 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 Paco sti giorni insieme a casa te lo dobbiamo tryhardare su fortnite si ma arriva a livello 100 Paco del pixel livello 100 da 8 anni già si ma quello tipo da come ho capito lui parte domenica giusto? che Antonio si eh tu torna quando noi partiamo non so no mi sa torna inizio di settembre proprio mi sa quando torna? mi sa di fatto 13 giorni wow wow ti ho detto va in Basilicata si ormai tu andate precisamente novasiri i novasiri dicono bella pure ma non c'è sempre da scegliere ho sbaglio? non ce la lo sai? non ce l'hai mai vista qualche volta? no non ci sono mai andata quindi non saprei no no andiamo dove vuoi tu? sempre la solita tappa però che te ci capiamo al voto andiamo dove vuoi tu? c'è ma io voto 7 tu io votiamo tutti allora non lo so la mia mamma dice che è un bel villaggio un signor villaggio però non lo so se non c'era la mia mamma ha detto già abbiamo provato a darci altre volte però le pezze erano troppo alti quindi boh e che cazzo di sultanza è? questo ha trovato un altro lanciato per il momento che è sultanza oddio eh vabbè hollywood hollywood è fagato con i doni non è ho capito ma signor mio trovi un giocatore da 27 no aspetta 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 vuoi sapere poco chi hai trovato oggi? no ho trovato Pele e Baby capisci Gemma in Pele e Baby? biro biro non lo so non lo so posso succedere sono a 18 so gente da me e mi sa non sono scazzi sono scazzi oppure no mi sa non sono botte non sono botte allora vengo da te anche se non ho scazzi gemelli sto arrivando solo per te no lo so fatto, ho fatto chilo 1 vabbè dov'è il compagno uuuu boi vabbè ti serve la mitaglietta no e non averte fatto so già vabbè ti serve gemelli non ti preoccupare vabbè 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 trattante vabbè 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 andiamo dopo di sbagliare un bel costume che va al mare dai buttati Paco puoi buttare scendendo? si certo ti ho fatto tutto quello che vuoi ti ho tirato il laser con questa porta la sentacca non so se ce l'hai eh però ho fatto il lavoro oh ho sentito ho sentito a che sparo so io l'ho sparato tu cosa stai portando? metti metti mi tocca ne ho uno ti fa lanci dammi un quarto thank yous thanks s so e vi lasso assurdo ok 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 A compagnia di due abbiamo fatto dei P.O.1? No. Qua fu un di se roba qua. Qua fu un di se roba qua. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. 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 Non lo so, non lo so. Allora, aspetta, c'è una cosa. Qua li buttiamo di safe? Che sei 10. Safe da te? Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Si è successo? Che cosa ha fatto? Che ha fatto? Niente, ho detto fuoco a una macchina. Ok. Ho fatto pagare. le splechtine le splechtine eh devo togliermi il cazzo, non abbo dare le porte qui c'ho tre milizie, potrei... no le porto io dai no questo qua è fatto di gundi che hai lanciato? ehi c'è bene, già ma non c'ho questo coppio lo vuoi? no, c'ho il bolt action ah già te l'ho pinzato io vabbè vediamo e tu mi vediamo che c'è ah così andavo a stare pure a casa per lo vuoi dire se a rischio sonero mmm no come no ma sai il presidente scusa come va ad essere a rischio sonero no no lo soneroi tu lo soneroi tu Paco ah vabbè sono eri tu scusate questo sul dito lo soneroi io stesso un suo sul dito sei un suo sul dito ti piaciuta Paco? sei il suo sul dito ma Paco Delprix è morto in tutto ciò? ma ti ho detto Paco doveva... se Gianmarco ritrovava la guerra non è che l'hai riscattata Paco capito? no no lo so nel senso perché comunque... eh non avevo un cazzo da fare sono animi che l'inglienze fa sentita un po' eh lo so però non lo so secondo me non si è fatta sentita per due giorni la gente sta a sparare all'aerroco quella giù a sabbia sabbie? ma io non la vedo all'aerroco mi sta facendo un ottimo valdini aspetta io mi sto facendo un ottimo full di legno così qua che stai facendo? mi stavo facendo full di legno io eh mi vuoi esisti sto full già questo è full legno 300 mattone e 200 ferro ah è Gianmarco vieni per tutto qua vieni per tutto qua vieni per tutto qua Gianmarco vieni verso di me si si sto qua mi sto facendo un ottimo po' di legno che fa my full ma quanto è a dare? per piselli tuoi uno due 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 ecco papo se mi vende le masseppe siamo un po' piselli però vabbè lo stesso è papo lascia stare ciao ecco quello è quello il push che è rilevo la cannuccia che tutti amano oh 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 grazie oh grazie ero ahò si quando mi cassa quindi già mangiare ma non si deve scaricare un'altra volta come no io la vediamo stiamo parlando io sto giocando io mi so di ci stavano un sacco un po perché non mi funzionava no già ma l'anno aggiornato l'hanno fatto che bello è vero è vero cosa cosa non ho capito è bellissimo divertendo a giocarci che facciamo stiamo facendo una partita forte giocamolo solitamente scaricare giochiamolo pago grazie a te dai gemolo fallo per no vado stasera non ce la faccio già faccio l'aggiornamento e tutto quanto quindi ci vuole tempo ci vuole ma in tutto ciò sto ancora col stack bianco nice siamo rimasti in 20 gg for us per il nostro culo gemolo 10 gg for us sta gente è la tu hai indicato il stack verde però sta gente è la sa ho visto lasciala stare no no ci penso io poco ne hai visto sta venire verso di là è stato uno sopra pure non riesco a passaggio e ora aspetta ahhh ma già ma già mi ha fatto cagare se sta sopra allora andiamo a pigliare scusi non so se sta ancora là o se è uscito pago aspetta non usciva scusa da la 6 ho visto qualcosa cadere ma cosa hanno fatto qua in mezzo ma io qualcuno nuota c'è un rumore di 100 e sotto qua l'avamo spacciamolo scuola ma senza che cazzo su ma anche se è uscito guardiù uè mi dica guardi se era l'off club lo ci fa dopo lo facciamo è certo che si fa l'off club ma boh gemolo andiamo ce ne dobbiamo fare pago infatti andiamo se ne insegue pago c'è uno scuolo che ti insegue lo so pago ci buttiamo qua mica dobbiamo danno No, 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 comunque ce l'abbiamo davanti, Gemini. Che è sta roba, mo? Ma... Castellucolo. Ah, no, c'è una cosa leggendaria, là. Eh, sì, c'è uno dentro, Gemini. Uh, andiamo, Paco. Non so quanto sia conveniente, perché questo mo sarebbe ripigliato il fucile a carica, vero? Ok, eh, sì, lo so, Gemini, infatti me ne sono accorto che ho sceso. Però non capisco dove è andato. Forse l'ho visto. Vieni qua, Gemini, vieni. Dimmi dove dovrebbe essere, così ti aiuto. Eh... Non lo so. Com'è che l'hai visto il nuovo Femo? Giavan stanno qua? Dove cazzo stanno rianimando? Dove sta il volmino qua? Dov'è il coso per rianim... eccolo qua, sta qua. Non è, non ce l'ho rianimato. Fermo. Allora, vado là. Allora, vado là. Nooo. Giavan mi ha sparato all'indietro questo. Bianco? Ok, uno ha atterrato. Ha congiunto 33, ha atterrato. Ucciso. Ok, a posto. Già che quello là che ha atterrato io non avevo un cazzo. Nice, bro. Sì, le palle non c'erano niente da qua. Allora, se vuoi gli affitto cosa, pigliatelo. No, no, pigliatelo se lo vuoi. No, no, a me non piace. C'è chi? Un altro là sopra? Dove, dove? Ho due. Ah, in bocca. Ah no, una persona. F***a c***o. Niente, sono bugato questo. Ucciso. Ma sei qua. Eh, lo so. Gemma, Gemma mi serve un... Un medikit, sì. Shieldini? No, due. Ho due. Non ho le splash, ma ce le facciamo. Le splashtine? Nice. Vabbè, facciamoci le splash... Uh. Non posso. Aspetta, aspetta. Non ci sto a credere che la prima partina del giorno ha potenitli e siamo già così di bene proprio. Ah, bo, tutto sta andando bene con noi. Quanti kill hai da? Uno. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, Gemma. Ciao. Scusate se mi mudo, ma... Un po' di tempo. 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 Ma, bo, lo sai che forse tu non riesci a rientrare in campagna, per quanto torni dalla vacanza? Un po' di tempo. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti